bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi sebbene si faccia una fatica incredibile a trovare delle news ne abbiamo alcune incredibili e sì perché se è vero che hanno posticipato la season 3 è anche vero che ci hanno lasciato molto più tempo per ragionare su quello che abbiamo visto nelle season precedenti e fare delle teorie delle comparazioni che sono qualcosa di incredibile quindi nel video di oggi parleremo di alcuni dettagli molto interessanti ma vedremo anche una nuova possibile modalità creativa prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo dai che ci tengo ragazzi è xyuder best moment e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi e si comincia parlando di lei ragazzi ne parliamo da oramai due settimane abbondanti loser fruit stiamo cercando di capire quando arriverà il suo bundle ufficiale vi ricordo il nuovo set delle icon series quindi ci sarà la skin con le motte allegata non vi sto a far vedere il video tanto l'avete già visto sapete com'è la skin ma arriva finalmente una data ufficiale e ce lo dice proprio il nightbot durante lo stream proprio di loser fruit che dice the loser fruit skin god delay quindi la skin di loser fruit è stata posticipata e verrà rilasciata in 12 giorni due ore 34 minuti quindi io sto registrando questo video giovedì 4 giugno arriverà il 16 giugno quindi in poche parole viene posticipata con la season se tutto è corretto arriverà un giorno prima del termine della season quindi ci auguriamo ovviamente di vederla in game dovrebbe essere tanta tanta roba e abbiamo finalmente una data ufficiale 1500 v bucks dovrebbe essere il costo visto che so che ve lo starete chiedendo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ragazzi quello che vedete alle mie spalle è la schermata di presentazione di over cooked un gioco dove praticamente bisogna in un tempo limite preparare dei piatti seguendo gli ordini quindi siamo in una cucina ci sono in alto a sinistra degli ordini che arrivano e noi dobbiamo andare in questa cucina a destra a sinistra prendere gli ingredienti giusti e cucinare il piatto un gioco davvero molto carino tra l'altro sta uscendo o forse appena uscito over cooked 2 che vede anche la possibilità di giocare online una grafica tutta nuova perché ve ne parlo perché epic games ci fa un nuovo regalo e quindi come vedete direttamente dalla schermata presa dal launcher è possibile ottenere over cooked totalmente gratuito uno dei nuovi giochi che viene messo a disposizione free per tutti gli utenti quindi se volete provarlo e vale la pena costava 16 dollari e 99 quindi circa 15 euro e qualcosa potete appunto scaricarlo gratis fino al 16 giugno approfittatene provatelo magari vi piace e vi divertite un casino e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ragazzi ormai ci sono tantissimi rumors che confermano la possibile flare gun nella season 3 che cos'è la flare gun è la pistola che vediamo anche nel trailer che non c'entra nulla con la season 3 perché fu rilasciato nella season 8 ok dove si vede jonesy nell'isola però abbiamo fatto dei confronti con l'immagine che è stata rilasciata direttamente dal play store da playstation e appunto abbiamo trovato che ci sono delle somiglianze tipo l'isoletta che si vede nello sfondo la flare gun ragazzi dovrebbe essere è una pistola che però non ferisce ma spara dei razzi di segnalazione ora non funzionerà probabilmente proprio così nel battle royale e molti dicono che potrebbe essere una pistola a colpo singolo che rilascia un drop una volta trovata però io ho dato un'occhiata delle mie vecchie cartelle e già avevamo visto se non sbaglio all'inizio di questa season questo post molto molto interessante perché era stata trovata l'icona della flare gun dentro i file di gioco qua addirittura si azzardava a associarla ad una pistola quindi io non credo sinceramente che questa immagine possa essere presa come buona però ve la faccio vedere perché magari qualcosa è interessante e lo troviamo qua diceva addirittura che fa 50 danni per shot potrebbe anche essere magari come la fiocci una fiocci una fa 75 per dire fa loro dicono addirittura fa cinque danni alla salute al giocatore finché il giocatore non salta in acqua e anche qua c'è una cosa abbastanza curiosa perché vi ricordo questa immagine è molto molto vecchia avrebbe senso se la mappa tantissima acqua avrebbe senso che magari potrebbe un giocatore subire danno nel tempo finché non si getta in acqua magari appunto incendiato comunque dite un pochettino come la volete anche perché mi torna in mente che avevamo già fatto anche qua tanto tempo fa un video di cui parlavamo nel quale parlavamo che con l'arrivo del motore grafico il caos engine che noi in realtà vediamo molto limitato sarebbero arrivati anche i danni alle strutture nel tempo per quanto riguarda ad esempio un principio di incendio quindi qualcosa che poi distruggerà le strutture potrebbe avere senso questa cosa e magari poi convertire questi danni alle strutture anche ai giocatori sono supposizioni però io vi dico quello che ho fatto e quello che ho detto e come ultima voce dicono solamente dieci colpi un pochettino come la fiocina quindi una il carico la ricarica limitato ovviamente è una volta terminati la si getta staremo a vedere questa flare gun sono molto molto curioso e andiamo avanti a parlare di un altro argomento davvero importante perché questa immagine ha davvero dell'incredibile vi lascio due secondi per guardarla molto molto interessante di che cosa si tratta è un'immagine che arriva direttamente da un grandissimo streamer gente che a volte ha addirittura degli anticipi in game da parte di epic games e siamo nella modalità creativa e quella che vedete di fronte alla skin del pan di zenzero è una serie di pedane di respawn un totale di più di 50 o forse 50 pedane di respawn questo vorrebbe dire che molto probabilmente dato che epic games sta spingendo tanto sulla modalità creativa crea appunto dei mini game accetta le mappe custom formate create dai giocatori che arriverà una nuova un nuovo stile di gioco in creativa con 50 giocatori il che vorrebbe dire dare sfogo all'immaginazione a livelli inimmaginabili perché già la creativa è tantissima roba e figuriamoci con 50 giocatori dentro adesso noi giochiamo con 16 se non ricordo male mi viene in mente nelle zone wars custom e questa immagine ragazzi è la prova che il team di epic games continua a sviluppare la modalità creativa speriamo davvero di vedere quanto prima delle news andiamo avanti con l'ultimo perché non abbiamo più tempo parlare dell'argomento di oggi porca miseria è lunghissimo questo argomento cerchiamo di sintetizzarlo un attimino il visitatore il visitatore ha dato ovviamente un sacco a quanto riguarda per quanto riguarda le storie line di fortnite e perché ve lo faccio vedere nuovamente perché come vi dicevo a inizio del video molti hanno avuto il tempo di ragionare su quello che è successo partiamo un attimo dalla prima immagine che dice noi sappiamo che durante la season 10 le registrazioni che si sono ascoltate parlavano appunto del device quindi il device il dispositivo è proprio l'arma ok l'arma di mida la doomsday device che già veniva menzionata nella season 10 e andando avanti sappiamo anche che nella visione di jonesy praticamente il l'immagine che è apparsa sotto i fortbite c'erano tantissimi predict per quello che era il futuro già aveva fatto il predict sul cactus verso il dogus abbiamo scoperto che c'erano dei predict sull'autobus che passava sopra l'isoletta quindi su questa season 3 che sta per arrivare ma una cosa veramente incredibile è proprio quella che ho cerchiato che c'è cerchiata qua sotto vedete quell'immagine quell'immagine ragazzi è molto probabile che sia la diga e ha la diga con sopra un rift questo vorrebbe dire molto probabilmente che o con l'evento oppure durante la season la diga subirà quasi certamente una modifica che appunto potrebbe proprio costare l'inondazione della mappa avrebbe senso sarebbe corretta come ipotesi e soprattutto ecco da dove arriverebbe l'acqua staremo a vedere ovviamente se jonesy ci ha preso così come ha fatto con tutto il resto insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao